useremo una scopa squid pop up di colore giallo e questo fantastico prodotto fatto da nesh che è la sweet core screw in questo caso non dobbiamo fare un innesco esageratamente grande prenderemo una pop up del 15 e appunto questo qui lo sweet core screw della taglia medium è molto semplice avendo già creato il nostro terminale avvitiamo l'innesco e useremo una fonte visiva ancora più marcata utilizzando questo mais fake andremo ad avvitare sopra essendo a bilanciamento neutro si sposa perfettamente con qualsiasi tipo di innesco in questo caso pop up guardate che bellino